Che si tratti di uno o più cucine, poco importa. Ci vuole qualcuno che si assuma la responsabilità, che assicuri che i nuovi sistemi di cottura siano efficaci e che quelli esistenti siano sempre aggiornati. Solo così è possibile garantire che la qualità non scenda. Perché alla fine non puoi permetterti di perdere il controllo della situazione. Ma come fare? La soluzione si chiama Connected Cooking. Con l'accesso digitale a tutti i sistemi di cottura e i servizi Rational, hai sempre tutti i sistemi di cottura sotto controllo, anche quando non sei in cucina o persino in ufficio, perché le notifiche push ti terranno aggiornato anche quando sei in giro. I sistemi di cottura sono sempre aggiornati automaticamente. Così potrai mantenere la testa libera per cose più importanti. E con il configuratore My Display, gli errori di utilizzo appartengono ormai al passato. Crea display personalizzati per ogni sistema di cottura senza alzarti dal tuo computer. Risparmi a tempo e denaro. Sei pronto per il prossimo passo?